La cooperativa Ops apre a Bitonto una finestra sul blu, un progetto rivolto a bambini con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie, di cui è referente la psicologa Miriam Cortese. Dopo l'apertura nei giorni scorsi all'interno della cittadella del bambino, la risposta dell'utenza è già buona. Ma sarà fondamentale lavorare in rete con istituzioni locali, scuole e tutti coloro che vorranno offrire un contributo educativo, psicopedagogico o artistico per dare il giusto sostegno alle famiglie. Ci siamo accorti che mancavano appunto dei referenti per questi genitori sul nostro territorio, i quali hanno appunto anche fatto delle richieste. L'intento di oggi infatti è quello di raccogliere le loro necessità e chiedere a tutte le associazioni e enti con cui abbiamo collaborato di prestare la propria competenza per una rete, per formare una rete e quindi creare il qui ed ora di un servizio sul territorio bitontino che manca. Una finestra sul blu nasce infatti per rispondere a queste esigenze emarse dialogando con le famiglie del territorio e in continuità con diverse iniziative messe in campo in questi anni, sia dalla cooperativa che dalla scuola dell'infanzia Folletti Birichini. Il nuovo progetto prevede lo svolgimento delle attività ludiche con fini didattici e non terapeutici, in modo tale da creare uno spazio diverso da quello che già vivono i bambini e le loro famiglie. Si punterà allo sviluppo delle emotività, a migliorare la comunicazione, le capacità attentive e di socializzazione, rispettando le specificità di ciascun partecipante. Sono previste anche attività sportive, di musica, danza e arte in generale. Ci sarà un percorso dedicato ai genitori che in alcune attività verranno coinvolti singolarmente, in altre con i loro bambini. Loro saranno i co-conduttori del progetto, essendo i veri esperti in materia. La diagnosi è una scossa di terremoto per le famiglie, è travolgente, improvvisa e non sempre a volte si riesce a ricostruire ciò che è stato un po' sepolto da questa scossa. Molte volte, anzi spesso, le attenzioni e l'esistenza dell'intera famiglia ruota appunto attorno e canalizzata intorno al bambino, trascurando diversi aspetti che sono anche il rapporto di coppia o la vita personale di ciascuno. Però questi aspetti sono molto importanti perché, benché si creda, comunque i bambini percepiscono qualsiasi cosa. Quindi per questo è fondamentale che anche loro riacquistino e abbiano la possibilità di avere uno spazio dedicato a loro. Per ulteriori informazioni basterà seguire gli aggiornamenti sulle pagine social della cooperativa OPS della Cittadella del Bambino e scrivere all'indirizzo email lacittadelladelbambino.com per aderire al progetto.